Previsioni meteo per mercoledì 18 giugno. Al nord maggiori schierite nella prima parte della giornata. Entro il pomeriggio si svilupperanno acquazioni otemporali al centro e al sud. Giornata all'insegna dell'instabilità con frequenti rovesci a carattere sparso anche temporalischi, concentrati soprattutto nelle ore pomeridiane. Venti moderati da nord-est con rinforzi sull'Adriatico, mari poco mossi o mossi, temperature stazionarie.